La settimana si apre con una notizia di esonero in Serie B e due di mercato, un ritorno in Serie A e un addio al nostro campionato invece. Filippo Inzaghi è stato esonerato dal Brescia dopo il pareggio contro il Cosenza, quart'ultimo in Serie B. Con una vittoria contro i Calabresi, il Brescia avrebbe potuto scavalcare il Pisa e piazzarsi in vetta alla classifica assieme a Lecce. Al posto di Inzaghi, dunque, Cellino richiama in panchina Diego Lopez. Kalinic, invece, rescinde consensualmente il suo contratto con Lella Sferona dopo una stagione e mezza, sei reti e due assist. Il 34enne croato ritorna in patria all'Aidux Palato, lì dove è cominciata la sua carriera professionistica. Mentre Sebastian Jovinko torna in Serie A dopo sei stagioni e mezza all'estero. Nel 2019 si trasferiva in Arabia Saudita l'Al-Hilal dopo quattro stagioni al Toronto, la prossima squadra di insigne. Era svincolato dalla scorsa estate, quando aveva rescisso il contratto con i Sauditi. E ora firmato con la Sampdoria fino al termine della stagione, che si è trovata a dover rimpiazzare Manolo Gabbiadini dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro che si è procurato durante l'ultimo match contro il Sassuolo.